Altra notte di incidenti, la scorsa a perdere la vita sulle strade dell'Umbria, è stato Jonathan Bardus, 25 anni di Cividale del Friuli, ma residente a Perugia dove studiava veterinaria. Il giovane era in auto con altre tre persone, tra cui un bimbo di 7 anni, quando in Alto Tevere a San Giustino, località Selcilama, tra via Tifernate e via Fratelli Roselli, ha impattato con un'altra vettura. Vani soccorsi per il ragazzo e le altre persone a bordo sono state trasportate in ospedale per ferite lievi. Soccorso anche il conducente dell'altra auto, un giovane della zona, sulla dinamica dell'incidente, stanno ora indagando i carabinieri e tra le ipotesi finora sollevate anche quella di una mancata precedenza. Grande dolore anche per la comunità gemonese e della pedemontana che piangono la scomparsa di Ciro Baldissera, 67enne di Gemona del Friuli, rimasto vittima di un altro incidente avvenuto nella serata scorsa, lungo la strada statale 13 Ponte Bana nel comune di Artegna. L'auto che Baldissera guidava si sarebbe ribaltata, filindo la sua corsa a lato della strada. A intervenire sul posto, i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre l'uomo e una seconda persona a bordo, intrappolate tra le lamiere accartocciate della macchina. Vali soccorsi per il conducente dell'auto, l'altra persona rimasta gravemente ferita e stata trasportata all'ospedale di Udine. La scomparsa del gemonese Baldissera lascia nel dolore l'intera comunità, dove era molto conosciuto per la sua attività di polentaro e sempre disponibile nelle iniziative sociali e di volontariato.